Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite perché ho delle notizie davvero incredibili. Questa mattina non sono usciti video, infatti sto pubblicando questo video di tardo pomeriggio che non è proprio una cosa usuale perché volevo fare una live ma poi ho sentito di queste notizie e ho detto no, ok, devo fare un video anche oggi, magari faremo un paio di live nei prossimi giorni. Quindi ragazzi mi raccomando per non perdervi le notifiche iscrivetevi al canale se ancora non si è fatto e mi raccomando controllate di essere iscritti perché molti di voi guardano i miei video, seguono le mie live senza essere iscritti al canale, quindi mi raccomando ragazzuoli controllate e se non lo siete iscrivetevi. Ma soprattutto lasciate un bel mi piace se anche voi siete gasati per le notizie che vi sto per dare sulla stagione 4 di questo secondo capitolo di Fortnite. Ragazzi non avete idea, non avete idea, mentre le notizie per questa terza stagione ci spaventavano un po' per colpa dell'acqua, queste per la quarta stagione invece mi stanno già iniziando a gasare nonostante siamo solo all'inizio di quest'altra nuova stagione. Ovviamente vi ricordo come al solito utilizzare il mio codice supporto a un creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite, grazie davvero per il supporto ragazzi. Ma intanto andiamo a mettere pronto perché abbiamo delle notizie incredibili. Oggi un po' meno del solito, ma secondo me sono tra le più importanti di cui vi abbia mai parlato nell'ultimo periodo. Prima di continuare con il video ragazzi volevo parlarvi di Boosteride, una piattaforma cloud gaming di cui vi parlo già da un po' di tempo. Ma cos'è una piattaforma cloud gaming? Molto semplicemente se voi non avete un dispositivo abbastanza potente per giocare i vostri videogiochi preferiti, potreste fare un abbonamento da Boosteride che costa poco più di 4,16€ al mese e giocare sui loro server. Proprio questo fanno le piattaforme cloud gaming, giocare sui loro server e quindi è come se giocaste con il vostro PC ma potenziato perché appunto non lo sfruttate al massimo ma usate i server di Boosteroid. Quindi proprio come dice il nome avrete un boost delle vostre prestazioni grafico. Ovviamente vi lascio il link in descrizione per andargli a dare un'occhiata. Ha una moltitudine di giochi che non avete idea. Ha Fortnite, Apex Legends, FIFA, GTA, ne ha veramente tantissimi. E inoltre per gli aggiornamenti o se dovete scaricare qualche gioco e non avete il massimo della qualità per quanto riguarda anche la connessione, non è velocissima, non vi preoccupate perché anche a quello ci pensa Boosteroid. Infatti giocando sui loro server devono pensarci loro all'aggiornamento. E ovviamente ragazzi appena esce un aggiornamento, appena esce un gioco, fidatevi che è già tutto installato. Quindi voi dovete soltanto accedere e avviare il gioco senza dover fare aggiornamenti e niente. Mi raccomando, link in descrizione, andategli a dare un'occhiata. Ok ragazzi, oggi ovviamente come al solito cerchiamo di fare una partita abbastanza tranquilla e quindi proporrei una classica Brughiere Brumose che ultimamente ci stiamo andando davvero molto molto spesso però devo dire che sta portando abbastanza bene quindi direi di premiarla ancora una volta. Tra l'altro ragazzi ho shoppato entrambe le skin di questo stile con il pigiamone praticamente questa qui ha anche la coda con quelle pantofole. Ragazzi, è spettacolare questa nuova skin ma anche quella del maschio sono davvero troppo 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 carine. Mi fanno impazzire. E poi ecco qui questo deltaplano, questa sorta di squalo martello. Dovrebbe essere uno squalo martello robotico che è tanta tanta roba, molto molto figo. Ci sta, ci può stare, ci può stare. Ovviamente tutto a tema squalo, dato che ormai ci sono gli squali durante questa stagione e bla bla bla. Ma guarda che figata con la coda la skin. Cioè no, regà è veramente figo. Mi piace tantissimo. Ovviamente abbiamo anche la copertura e anche il dorso decorativo come potete vedere lo squalotto lì e ovviamente anche lo strumento di raccolta, il piccone. Allora, vedo in realtà qualcuno arrivare. No, forse è solo uno e speriamo sia solo uno. Mi prendo al volo quest'arma e magari provo a sparargli mentre è in aria. Sì, ci provo. Niente, vabbè, un colpettino però gliel'abbiamo dato. Almeno gli facciamo perdere tempo, lo costringiamo a cercare delle cure. Ci può stare, potremmo fare di meglio, ma ci può stare. Allora, raga, dato che negli ultimi giorni abbiamo parlato molto spesso delle macchine io direi di iniziare a parlare un attimino dei veicoli, delle macchine perché abbiamo una data. Probabilmente abbiamo una data molto plausibile. Abbiamo una data molto plausibile di come e quando potranno uscire. E... è molto vicina la data, ragazzi. Vi dico questo, intanto. È abbastanza vicina. Non pensavo fosse così vicina, mi aspettavo qualcosa di un po' più lontano addirittura. Perché la fonte parla di 21 luglio. Ora, noi da fonti ufficiali sappiamo che l'11 dovrebbe cambiare la mappa. Quindi, per esempio, tra 5 giorni dovrebbe scendere ancora di più il livello dell'acqua. Evidentemente, entro il 21 luglio, se non proprio il 21 luglio, il livello dell'acqua si abbasserà ancora di più e lascerà spazio ai nostri cari veicoli. Perché, ribadisco, secondo me, Epic Games durante questa stagione non ha rilasciato immediatamente i veicoli semplicemente perché, ovviamente, essendoci talmente tanta acqua da non poter muoversi liberamente, era inutile, no? Dare la possibilità subito di poter guidare una macchina o avere altri tipi di veicoli. Quindi, hanno deciso di aspettare. E, probabilmente, il 21 luglio, magari, potrebbe essere una buona data. Non è una buona cosa il fatto che mi stiano già pushando, però questa non è una cosa buona, no. Sta qui sopra. Io non ho... Aspettate. Ah! Ah, vabbè, mi ha portato il pompa. Praticamente è come se mi avesse portato il pompa. A sto punto l'ultimo... L'ultimo funghetto me lo metto. Vabbè, ok, mi è venuto a portare il fucile a pompa. Molto, molto, molto gentile. Dunque, stavo dicendo, probabilmente, il 21 luglio Epic Games ha pensato possa essere il giusto compromesso con una mappa abbastanza ancora acquatica, quindi nel vivo della stagione fondamentalmente, ma allo stesso tempo con un bel po' di terra su cui avere, appunto, le strade, perché comunque io immagino che ritorneranno un po' le strade vecchio stile dove potremmo guidare le nostre carissime macchine, trattori, di tutto. Autobus hanno provato a spararmi. Maledetto! Eh, l'hai sentito, maledetto? L'hai sentito, maledetto? Così ci pensi due volte la prossima volta a sparare a uno squalo, eh? La prossima volta, Mari, ci pensi due volte a spararci. Niente, dunque, il bug del cursore c'è ancora. Guardate sulla legna. Guardate sulla legna il bug del cursore c'è ancora. Quando riuscirà a risolvere questo bug sarà sempre troppo tardi. Comunque, ragazzi, io vi ricordo che gioco su PC con il controller e spesso e volentieri questi bug ci sono. Si bugga un po' il controller su PC quando tendi a muovere troppo mouse e tastiera anche se poi effettivamente giochi con il pad. Eh, vabbè, eh, vabbè, ragazzi. Niente, i soliti buggetti di cui non ci libereremo mai. Quindi, raga, fatemi sapere cosa ne pensate della data del 21 luglio che, secondo me, ribadisco, può essere un buon compromesso in realtà, eh? Ma come ha messo prima lui la... Ah, no, sono le mie, mi sa. Perché mi ha messo... Questo mi sa che è quello che ho colpito in aria allo start. Questo è quello che ho colpito prima allo start. Non credo abbia tantissimi materiali. Non ha tanti materiali, forse li aveva finiti, però... Eh, il colpetto ce l'ha tirato, eh? Sì, infatti aveva finito i materiali, immaginavo. Infatti, ho iniziato a spammargli di mitraglietta, ragazzi, perché allo start è difficile che la gente abbia tanto, tanto materiale. Noi ne avevamo un bel po' perché abbiamo lutato parecchio. Lui poi l'aveva anche colpito, quindi evidentemente poi ha perso tempo per curarsi e tutto. Vabbè, comunque, ci sta. Ci sta anche non avere tanto materiale allo start. Io perché sono abbastanza matto e quindi cerco di farmi il più materiale possibile, lo consiglio anche a voi. Comunque, a parte questo, ribadisco, secondo me, può essere un buon compromesso. E' effettivamente il 21 luglio. La mappa dovrebbe iniziare, ribadisco, ad avere molta, molta, molta più strada, quindi molto più percorso percorribile, senza nuotare, senza incommere a un fiume o un lago. E quindi, secondo me, ci sta. Poi da capire se rimarranno anche per la prossima stagione i veicoli o se sarà un'esclusiva di questa stagione, ma non credo, regà, perché non penso che creino una meccanica di gioco come i veicoli come esclusiva di una stagione dove è piena d'acqua la mappa. Cioè, sarebbe davvero un controsenso, veramente, ragazzi. Cioè, non avrebbe proprio alcun tipo di senso. E' come se la Epic Games facesse una stagione incentrata sul calcio, prendo in esempio uno sport, e poi le skin di quella stagione sono tipo di basket. Senza nulla togliere al basket o al calcio o agli altri sport, dico in generale. Quindi non credo che abbiano messo i veicoli in esclusiva come... E appunto esclusiva di questa stagione dove c'è la maggior parte di acqua per tutta la mappa. Quindi credo che poi ce li troveremo anche durante la prossima season. E ragazzi miei, allora, a parte il fatto che questa notizia vi ho appena dato sui veicoli, ai leaker miei di fiducia gliel'han passata praticamente un'altra fonte che già ai tempi ci prese su moltissime cose, ragazzi. Quindi si presuppone che potrebbe seriamente prenderci anche questa volta. Anche perché ribadisco, ragazzi, il 21 luglio sembra davvero una data perfetta. Cioè, una data davvero ottimale. Ora, prima di passare al prossimo leak, voglio fare nuovamente questa premessa. I leaker non hanno trovato nulla di tutto ciò nei file di gioco, perché solitamente i leak che vi porto sono leak veri. Infatti tutto quello di cui vi ho parlato fino adesso si è sempre avverato, no? Cioè, da quant'era che vi dicevo che ci sarebbe stato Aquaman in questa stagione? Io ormai ve lo dicevo da tre mesi, da un sacco di tempo. Perché mi affida dei leaker che appunto seguono i file di gioco, sanno come decryptarli, tra virgolette, e quindi poi sanno di quello di cui stanno parlando. Bene, questa volta, e lo scrivono anche loro come potete ben vedere, non è nulla di certo, però questa notizia gliel'ha passata una fonte che già un po' di tempo fa, tra l'altro bellissimo sto V90, e bellissima anche Stecura Bomba, appunto una fonte che già un po' di tempo fa ci ha stupito tutti prendendoci su alcune cose. Quindi magari avrà avuto una soffiata, ci sarà stata qualche notizia trapelata fuori che non doveva trapelare. Non si sa, ragazzi, come facciano queste fonti, non avendo nei file di gioco determinate notizie, però alcune fonti riescono a sapere questa cosa. Infatti per questo puzza, e so che c'è anche proprio un'inchiesta all'interno dei Big Games per la paura che ci sia qualcuno che parli un po' troppo all'interno dei Big Games e spammi un po' troppe notizie. Ecco, questo è anche per questo, ragazzi, che tante volte la gente ci prende anche senza i file di gioco. Quindi diciamo che quello di cui vi sto per parlare potrebbe, anche se non è sicuro al 100%, potrebbe essere una cosa vera. Scusatemi se ci sto ammettendosi tanto a farvi queste premesse, ma vorrei che capiste bene quando vi porto delle notizie che sono certe al 100% e quando vi porto delle notizie che potrebbero non essere così. Allora, lo avrete letto dal titolo, anche se in realtà non so ancora come fare la miniatura, come scrivere il titolo, ma la prossima stagione, sì, ragazzi, già parliamo della prossima stagione, nonostante sia iniziata da solo due settimane, due o tre settimane questa qui, si parla di una collaborazione con Disney, ragazzi. Cioè, una roba pazzesca, regala Disney. Cioè, boh, ma che assurdo sarebbe una cosa assurda, regà. Una collaborazione con la Disney e dato che si sta ipotizzando ad una mappa stile giungla, quindi come se fosse una giungla, e viene qui la bella notizia, non il livello 170, ma la bella notizia arriva qui, che se la prossima mappa è stile giungla, vuol dire che tanta, ma tanta acqua che abbiamo ancora adesso, ancora oggi, si andrà a togliere, ragazzi. Quindi è normale che se poi la mappa diventerà tipo una giungla, si andrà a togliere parecchia acqua. Il problema, diciamo che comunque c'è un problema, è che potrebbero esserci un po' troppi alberi. Ora, non credo che facciano l'intera mappa stile giungla. Cioè, nel senso, voglio farvi capire un attimino. Allora, come vedete, nella mappa di quest'oggi, diciamo, di nostri giorni, è tanto, tanto, tanto acquatica, ok? Però non è tutta acqua. Cioè, ci sono delle zone, tipo qua, cioè, ci sono delle zone dove c'è tanta, tanta terra e non per forza acqua. Quindi mi aspetto una mappa, sì, incentrata sulla giungla, ma non che sia tutta giungla, che ci sia un albero ogni metro quadrato. Insomma, sarebbe un po' esagerato. Però, per esempio, mi aspetto degli alberi giganteschi, a cui intorno ci sono svariati altri tipi di alberi, un po' più piccoli, neri, quelli normali. Non so, sto ipotizzando, eh. Sto ipotizzando un po' così, e magari ci potrebbero essere le solite zone montuose dove non ci sono alberi. Insomma, potrebbero nascere tante, 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 tante situazioni. Cioè, oh my god! Ma da dove, tra l'altro? Non mica l'ho capito, non lo sento. Regà, vi giuro. Ah, lì su! Mamma mia, meno male. Che me ne so accorto, se no questo qua me... Mamma mia, l'avevo pure chiuso. Qua se ci fossero state ancora le trappole, l'avrei ucciso con la trappola. No, razzo! Ma che cacchio! Ma questo ha ripreso l'altezza, ma come e quando? No, questo fa casca tutto mo. Da dove sta sparando col lanciarazzi? Mannaggia la miseria. Regà, non posso prendere troppa altezza, se no poi muoio per caduta. È cosa che già sta provando a farmi fare questo. Sta fuori safe? Ah no, sta dentro. Mannaggia la miseria, mannaggia. Eh, il problema è che ce n'ho due. E raga, provo a fare una cosa, me ne vado. Me ne vado perché c'è la safe anche abbastanza lontana, e poi perché in realtà devo anche finire di parlarvi un attimino della nuova stagione. Allora, perché vi sto parlando di giungla? Perché vi sto parlando della collaborazione con Disney, se fino ad adesso vi ho detto solo appunto del tema della giungla? E raga, uno dei grandi classici della Disney, insomma, il libro della giungla. Ora, il libro della giungla, insomma, c'è stato più negli anni 2000, quindi un po' più la mia generazione. Ora, molti di voi magari avranno rivisto, avranno visto i film rifatti, avranno visto anzi il film anche quello fatto da Hattori Veri, perché in realtà il libro della giungla era un libro che poi è stato fatto a cartone animato. Poi l'hanno rifatto anche come film nel 2018, se non sbaglio, anche nel 2016, a film vero e proprio con le persone vere, no? Quindi hanno fatto un po' un salto di qualità con le tecnologie di oggigiorno. Però diciamo che è un cartone abbastanza vecchio, fatemi sapere sotto nei commenti se lo conoscete. Tra l'altro era uno dei miei cartoni animati preferiti con Mowgli. No raga, veramente lo adoravo. Era uno dei miei cartoni animati preferiti, l'avrò visto 38 miliardi di volte. È uno dei pochi libri che effettivamente ho letto e che mi facevo leggere da mamma, cioè, è stata veramente l'infanzia. Infatti appena l'ho saputo ho detto no, magari sarebbe qualcosa di pazzesco. Anche perché, boh, la skin di Mowgli, la skin delle scimmie addirittura. Vabbè, a parte c'è Wukong che è una scimmia, eh. Ci può stare. Comunque poi ragazzi si stava parlando anche di liane. Cioè, regà, le liane tra un albero e l'altro per potersi dare tipo lo slancio e passare tra un albero e l'altro. Oppure, non lo so, per scalare. Cioè, i leaguer parlano più di liane che si utilizzano per salire sugli alberi, salire su determinate cose. E proprio qui torniamo al discorso del avere, per esempio, degli alberi giganteschi con delle case sugli alberi. Regà, cioè, vi immaginate una casa sull'albero che puoi raggiungere tramite liane oppure, vabbè, buildando, ma buildando già è un po' più una cosa classica. Però vi immaginate una liana? Cioè, regà, le liane per per salire sull'albero sarebbe una cosa pazzesca. Tra l'altro lì ha la skin di Kit e ha l'arma di Kit. È il vero Kit? Uh, ah, vedi, regà, ma è tato. Io neanche lo vedevo. Cioè, l'ho visto tardi. Sono caduto, ottimo. Naggia la miseria, ma prima o poi te becco, eh. Più che altro devo stare attento se c'è qualcuno dietro. Ora, non so se sono sopravvissuti quei due che avevo alle spalle da cui poi sono scappato. Se c'è qualcuno lì dentro, sì, probabilmente sì. Naggia la miseria. E niente, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate sotto nei commenti. Ovviamente per la prossima stagione parliamo già a settembre, nel senso che Epic Games sta dicendo sì, fine agosto, ma già stanno mezzo rimandando il tutto, quindi probabilmente ne riparleremo a settembre. Però, se le notizie iniziano ad essere già queste, regà, no! Ha fatto prima questo qui, non ci credo, sono rimasto troppo fermo. Stavo per uccidere quello lì che si era fermato e mi sono fatto ingolosire, ragazzi, ma giustamente ho visto quello lì fermo, però dovevo coprirmi. Ma non volevo perdere tempo, ragazzi, non volevo perdere tempo, volevo uccidere immediatamente quello lì che si era fermato a curarsi e invece ha fatto prima quello. Mannaggia la miseria lì, però. Ah, tra l'altro abbiamo del castombrello, abbiamo riscattato un nuovo stile, vabbè, poi il castombrello quando sbloccheremo tutto lo faremo. Niente, raga, siamo nuovamente morti per colpa di un headshot, gli headshot di Gigi sono tornati, hashtag total headshot, ottimo, era un po' effettivamente non morivamo per un headshot, me lo meritavo, quasi mi mancavano, quasi mi mancavano. Comunque, raga, fatemi sapere cosa ne pensate sia della data d'uscita dei veicoli, sia cosa ne pensate di questa storia della stagione 4 di questo secondo capitolo di Fortnite, della giungla, del libro della giungla con la collaborazione della Disney. Mi raccomando, codice supporto a un creatore, Gigi, Yt, tutto grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite, iscrivetevi al canale se ancora questo è fatto, lasciate un bel mi piace, per me è tutto, ci vediamo domani con un prossimo video qui sul mio canale e nei prossimi giorni con le live. Ciao ragazzi! E ovviamente ragazzi, vi ricordo di andare a dare un'occhiata anche a Boosteroid, link in descrizione.